Bagna le le mani, insappona le le mani, sfrega il palmo sopra il dorso, poi il palmo contro il palmo, intreccia le le dita e frega frega frega, friziona avanti indietro le dita e anche i polsi, risciacqua bene bene poi asciuga asciuga, ah! Segui passo dopo passo, è una danza una movenza, segui il ritmo la cadenza, segui il tempo, segui l'onda, muovi palmi a seconda e secondi in quarantena, stanno passando, stanno finendo, è il virus misterioso che si leva col sabon, col sabon, lo diceva già Pilato che le mani vanno lavate, lo diceva anche Di Pietro che le mani vanno pulite, non lo dico pure a te, una mano lava l'altra, ma oggi non ci basta, ma oggi non ci basta, 3, 2, 1, col sabon!